Io mi chiamo Tawab e ho 9 anni. Lei è mia sorella e si chiama Gianette. Lui è Adam ed è mio fratello. Mia mamma viene a prendermi da scuola, prendiamo l'autobus e veniamo all'Antonina a cenare. Quando si mangia, mangiano tutti e quando invece non hanno ancora preparato, si gioca. Ora no. Perché c'è il Covid? Non ho potuto stare a casa o fare nulla. È tipo una cosa che vuoi tanto fare, però non potresti farla, tipo volare, però non puoi. Su questa replanina scrivo un messaggio per la nonna. Nonna, ti vogliamo bene! Grazie! 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 Grazie!